...i soggetti che andrà a costituire il gruppo. I bozzi e recinti dovranno essere facilmente lavati... ...addiction. All these can be used to deter smokers. The message is also positive. The habit can be broken with the aid of health practice. ...feio, presidiata da Rude Castello di San Michele. Il centro visitatori del parco prelude alle meraviglie di una natura... ...nel mese di aprile della durata di otto giorni. Cinque naturalmente prima di detto giorno e due subito dopo. Calcolando il giorno dello stesso santo nello spazio degli stessi otto giorni. ...purché la fiera si tenga senza danno della cosa pubblica... ...e senza pregiudizio dei vicini. Barletta un... Vedremo dalla barca la natura che si vede appunto dalla timpa di Capomulini... ...fino a Santa Tecla. Con noi a raccontarci cosa troveremo il dottore Sandro Privitere... ...che è un geologo dell'Università di Catania, Cottegana. Buongiorno. Incominceremo le nostre osservazioni dalla timpa di Capomulini... ...quindi appena a nord del Faro. Ci sposteremo lungo la costa per circa 7 km... ...sino a Santa Tecla, esattamente alla zona del Castello del Greco... ...dove la timpa poi si allontana dal mare... ...per cui gira verso nord-ovest e verso il Montetti. Alla presenza del sindaco di Altamura, città... ...dove la via da qui si allontana dal mare... ...e verificati in colore...